Raga, occhio ai dettagli! Nelle scorse settimane, ma soprattutto dopo l'ultimo capitolo, si sono fatte tante ipotesi sulla natura stessa fisica di nascita dei Gorosei e anche sui loro poteri, e ci sono state delle associazioni anche ad Imu. Quali sono state però le opzioni diciamo più blasonate, prese in considerazione per la maggiore? La prima è che Imu è addirittura il creatore stesso dei Gorosei e che potrebbe essere un'estensione stessa del suo potere. La seconda, che si potrebbe anche collegare in realtà alla prima, è che effettivamente tutti i Gorosei possano essere degli ologrammi, delle estensioni di loro stessi, e che quindi Saturn è ancora sulla nave in realtà, e quindi lì sul campo di battaglia non c'è proprio lui, e che allo stesso tempo se, se i quattro, ma probabilmente sono loro, arriveranno sul campo di Eged, anche loro non saranno i corpi originali ma le estensioni. E ci sta sia appunto nella prima opzione che nella seconda. Ma il manga in realtà ci ha dato davvero delle opzioni per dire queste cose? Oppure ci sono dei dettagli e delle tavole che possono andare diciamo a smentire o comunque a metterle in dubbio queste teorie qua? La risposta è che ci sono quattro tavole che noi adesso vedremo e analizzeremo che appunto ci portano a dire queste cose sono difficilmente realizzabili proprio perché l'autore ha disegnato delle cose che vanno in contrapposizione. Vediamole subito. Siamo nel capitolo 1073 e vediamo la scena in cui devono assaggiare il cibo di Saturn per verificare se non è avvelenato. E uno dice ok ci sta effettivamente può essere una prassi però però uno dice ma se noi abbiamo visto un Saturn che si rigenera abbiamo visto un Saturn che addirittura possiede il veleno il frutto che comunque con le zampe avvelenate. E poi si dice che almeno nella teoria che noi stiamo cercando di smentire che è un'estensione letteralmente del potere di Imu quindi una creazione non propriamente umana perché allora c'è la paura di mangiare del cibo avvelenato? Io stesso ho ipoteticamente due risposte quindi questa non sarà la tavola proprio prettamente incriminata e quella che un pochettino di dubbio ce lo mette ma ancora effettivamente non ci dice no quella non è la teoria giusta perché effettivamente tu non vuoi dire la tua vera natura alle persone quindi segui una prassi classica dove i tuoi sottoposti assaggiano il cibo per te perché effettivamente tu nella normalità nella normalità dici ragazzi io sono una persona normale voi mi assaggiate il cibo perché sono il vostro nobile e ci sta effettivamente o addirittura lui in versione umana potrebbe effettivamente essere avvelenato quando poi risveglia il frutto comunque si trasforma in modalità frutto effettivamente uno potrebbe dire è lì che in questo caso non subirebbe problemi di veleno un po' forzata la situazione perché se sai che ti hanno avvelenato ti trasformi e quindi ti curi in un certo senso però andiamo avanti adesso siamo nel capitolo 1089 ed è molto conseguenziale a quella che abbiamo visto prima perché adesso Saturn sta mangiando quel cibo che gli è stato assaggiato e che effettivamente non è avvelenato e uno potrebbe dire nulla di strano certo vero però effettivamente se noi ragioniamo sul fatto che lui dalla nave quindi il corpo originale estende una sua versione olografica sulla terraferma allora è lecito che mangi se invece si entra nella teoria che lui è una creazione particolare di imu è un qualcosa davvero di ultraterreno il mangiare è un qualcosa di troppo superfluo no? e anche il dettaglio stesso che fa vedere Oda in questa tavola che lui sta mangiando tranquillamente anche di gusto sembrerebbe no? è troppo particolare per far dire che questo non sia effettivamente di natura umana cioè è quello che noi potremmo andare a smentire no? il fatto che lui estenda sulla terraferma appunto un'estensione ecco invece in questa tavola del 1086 entriamo in un ragionamento sul concetto della telepatia e quindi del collegamento che ci può essere almeno per teorie e opzioni diciamo messe in campo tra imu e gli stessi gorosei perché noi nell'ultimo capitolo nel 1109 vediamo come effettivamente Saturn da lontanissimo ma davvero da lontanissimo da giorni e giorni di viaggio e di distanza riesca a comunicare telepaticamente con gli altri quattro colleghi quindi gli altri gorosei e questo comunque a meno che non sia un potere devastante di Aki di Aki particolare che non abbiamo notato che riesce addirittura a coprire giorni di viaggio e di distanza lì stiamo parlando di gente di una forza fuori da ogni misura e che non si capisce perché non abbia fatto mai nulla per distruggere i loro nemici quindi già sul discorso Aki toglierei un po' di cose ma senza questa tavola ovviamente poi chissà se non è una tecnologia ma non stiamo qua in questo momento specifico per questa tavola a dire quale potrebbe essere l'abilità psichica o tecnologica dei gorosei ma il collegamento stesso tra imu e gorosei notiamo una cosa molto importante imu per comunicare con loro usa un lumacofono e perché noi vediamo che usa un lumacofono? perché uno potrebbe dire eh ma attenzione potrebbe essere messo lì per estetica o per dettaglio di dubbio o per fregatura da parte di Oda per farci capire che stanno parlando tramite lumacofono ma in verità poi ci dirà che non è così guardate bene il lumacofono dei gorosei non quello tanto di imu ma quello dei gorosei è aperto è aperto il denden mushi se notate c'è la cornetta che è aperta quindi è inchiamata quindi è ufficialmente inchiamata e tra l'altro guardate i balun che sono fondamentali davvero fondamentali i gorosei parlano perché non c'è il balun del pensiero quello tutto spinato non so come chiamarlo con tutte le righette e tra l'altro c'è anche il balun di imu che dice regno di lulusia che non è un balun di appunto pensiero anche lì ma è un balun di estensione stessa della voce del denden mushi se non sbaglio almeno per dettaglio mi sembra così ma adesso non lo potete vedere ma se guardate bene anche imu ha i balun della parola quindi sta parlando non stanno comunicando in modo telepatico e quindi il discorso della telepatia in questo caso non lo riuscirei sinceramente da questo dettaglio qua a prendere in considerazione davvero sono sincero perché non c'è modo che loro in questo caso stiano comunicando in modo telepatico e quindi non riuscirei a trovare un collegamento tra le due cose quindi scusa tu creatore dei gorosei imu ipoteticamente non comunichi con loro telepaticamente ma loro tra di loro possono? sarebbe molto strano di solito è il corpo madre o padre che dovrebbe perlomeno avere i poteri maggiori dei figli che crea almeno penso che su questo siano tutti d'accordo e allora potremmo già da questa tavola fare questo tipo di eliminazioni di teoria e ci potrebbe stare in questa tavola siamo nel capitolo 1107 quando Catarina Devon tocca lo zampone di Saturn e dice bene missione compiuta poi sul concetto della missione ne abbiamo parlato in altre sedi ma è fondamentale comunque capire che Devon ha questo frutto che può copiare l'identità di un altro personaggio che tocca in questo caso poi non sappiamo quali altri poteri possa avere per non essere identico a quello di Bon Clay quindi Mr. Chu il mimo mimo perché tra l'altro ha anche un nome diverso il frutto di Catarina Devon che è quello della Volpa Novecò del mitologico e allora io vi chiedo ma lei se avesse toccato un'entità olografica avrebbe detto bene missione compiuta avrebbe percepito che il potere ha funzionato questa non è una domanda banale in realtà mi spiego meglio ok noi queste cose non le possiamo provare da lettori però comunque io mi immagino che se mangio un frutto e attivo un certo potere io possessore di quel frutto e di quel potere lo capisco lo percepisco che ho attivato qualcosa e che qualcosa si è attivato quindi se Devon avesse toccato un ologramma un'entità che non è fisica in quel momento lì una vera entità che non è fisica in quel momento lì sulla piattaforma sulla terra di Eged e lì sarebbe stato un ma che cosa ho toccato ma perché non mi si attiva il potere e invece le dice bene missione compiuta quindi proprio ha percepito che qualcosa ha copiato ha copiato un ologramma ha copiato un'entità cavolo lì non sarebbe stata così tranquilla in realtà secondo me avrebbe reagito in modo diverso e quindi questa tavola molto probabilmente ci può far capire come in quel campo di battaglia ci sia alzato un originale e non un'estensione di se stesso una creazione di Imu e non lo so a questo punto forse il ragionamento sarebbe identico perché in qualche modo ti chiedi ma che cosa sto toccando però se fosse una creazione molto simile all'essere umano effettivamente potrebbe anche ingannare una come Catarina il suo potere però come potete vedere secondo me da queste quattro tavole abbiamo tolto non dico sicuramente ma molto probabilmente almeno due opzioni la prima che possiamo escludere appunto è che tra Imu e Gorosei ci sia un collegamento telepatico e questo può essere anche fondamentale per dire non con certezza ma quasi che Imu non li ha creati perché se gli dai la telepatia tra di loro perché cavolo non gliela dai tra te e loro è molto strano e questo è già un dettaglio che possiamo portare via l'altro è appunto che sul campo di battaglia c'è il Saturn fisico il Saturn originale e che quindi non è un ologramma se no sarebbe stato appunto molto strano la conclusione del video è davvero molto semplice noi tra pochi capitoli sicuramente avremo una panoramica più chiara sui Gorosei su quello non ci piove non so se ci verrà detto tutto in questa saga qua ma sicuramente tra due mesi ne sapremo di più di quanto ne sappiamo adesso su quello non dovrebbero esserci dubbi poi è tutto possibile è davvero tutto possibile perché è un campo apertissimo perché noi non potremmo parlare soli e soltanto di poteri di frutti potremmo davvero parlare di poteri di chissà quale epoca di chissà quale dimensione o poteri tecnologici quindi davvero i campi aperti le opzioni aperte sono tantissime che però secondo me non sono ancora state trattate o sono state trattate senza fare grandissime teorie perché ancora mancano dei punti quindi attendiamo e fatemi sapere se effettivamente queste quattro tavole vi hanno aiutato e ci hanno aiutato a capire qualcosa in più o in meno però in positivo in realtà è